Sandro Vecchiato, oggi una cerimonia di consegna alla cittadinanza di questa tribuna di un monumento storico cittadino quale lo stadio Piani consegnato appunto alla città e al comune, frutto della cooperazione tra pubblico e privato. Sì, pubblico e privato, è un mix vincente. Il pubblico ci ha creduto immediatamente, cioè il comune di Palo aveva lanciato quattro anni fa questo appello a cui mio fratello Michele Dio immediatamente ci siamo guardati negli occhi abbiamo detto un monumento del genere non può essere lasciato andare come invece sta frenando e così abbiamo deciso di dare un contributo. È uno stadio a Piani che rievoca tutto quello che merita. Qual è il ricordo più bello che ha legato a questo stadio? Perché anche lei ci veniva da bambino. Ma guardi, ormai ogni padovano ritengo che possa dire, ogni padovano che si intende di calcio, che è amante oppure che veniva ai concerti o altre occasioni, ha qualcosa da ricordare. Io ricordo una cosa molto bella, l'Inter di Breme, di Matteus, mi avvicinai proprio qua, vicino alla panchina e chiesi a Trapattoni, l'allenatore dell'epoca, e allora cosa facciamo quest'anno? Io, del buon interista, tirai fuori il biglietto e lui mi fece l'autografo. Grazie.